Condivisione e comunione sono le parole su cui è iniziata la storia delle due parrocchie di Bacezza e Sant'Andrea di Rovereto che ora hanno in comune il parroco Don Giacomo Canepa, il sacerdote che ha assunto anche l'incarico direttore del Santuario delle Grazie ha fatto il suo ingresso nella comunità di Sant'Andrea accompagnato dai fedeli di Bacezza, segno esplicito del desiderio di iniziare un cammino comune. Non è solo il parroco che assume due parrocchie ma sono due comunità che si incontrano, camminano insieme, si conoscono perché oggi forse non ci conosciamo ancora così bene quindi sarà un cammino di sostegno al parroco che inizia il suo percorso sostenuto dalle sue comunità. Riconosciamo di avere una grazia particolare ovvero quella di non perdere un parroco ma di condividerlo come ha detto il Vescovo. Il Vescovo lo ha chiesto esplicitamente nell'omelia, le due comunità sono chiamate ad un rapporto di comunione, ad aiutarsi, a sostenersi reciprocamente vivendo l'unità. Il parroco lo ha richiamato nel saluto finale, Gesù non ha creato i confini ha detto, ma ha creato la terra, i rapporti e la loro bellezza. Senza contare ha aggiunto che il quadretto della Madonna dell'Ulivo, tanto caro agli abitanti di Bacezza, è stato trovato da un testitore di Sant'Andrea. È stato molto bello che Don Giacomo lo abbia sottolineato durante le parole che sono state davvero emozionanti e ci richiamano un po' tutti a questo forse desiderio che tutti un po' abbiamo, di maggiore apertura verso gli altri, collaborazione e comunità. È proprio anche un sentimento che parte da un bisogno e quindi diventa anche un desiderio e un auspicio per le nostre comunità. Di che cosa ha bisogno secondo lei la comunità di Sant'Andrea di Rovereto? Beh, intanto di continuare, devo dire, in questo cammino che anche con Don Stefano abbiamo iniziato, diciamo compiuto in questi anni, che è stato quello anche un po' di ritrovarci tra i giovani e gli anziani del posto e quindi pensiamo di continuare così e sono certa che con Don Giacomo questo sarà un ulteriore cammino, ecco, fatto insieme. Tanti progetti o schemi ora in testa non ce l'ho se non quello di cominciare intanto a conoscersi, no? Io penso che poi alcune cose le scambieremo da giù a su, qualcuna da su a giù, ecco, però come diceva il Vescovo, sono, ognuna ha la propria ricchezza e va condivisa, allargata, conosciuta. Grazie. Grazie.